Buongiorno a tutti, eccoci qua per una nuova pillola di libri. Questa mattina torniamo a parlare di poesia. Io mi sono appena svegliato, sto un po' rintronato, ma non vedrete la differenza tra quando sto bene e quando sto rintronato. Allora, oggi parliamo di una poetessa meravigliosa e bravissima, che è Daniela Dalimonte, con il libro La geometria del tempo. Quando è che la poesia è vera poesia? Quando sa accarezzare l'anima e sa far nascere emozioni. E in questo Daniela è una maestra, perché leggere le sue poesie è come rilassarsi davanti ad un fuoco acceso, per esempio, d'inverno, oppure guardare l'alba o un tramonto. Le poesie sono brevi, in realtà sono piccoli flash di emozioni, di sensazioni, sono come fotografie che Daniela riesce a fare ad un attimo e quell'attimo diventa eterno in queste pagine. Daniela è bravissima come scrittrice, è bravissima come io la conosco personalmente, tra l'altro anche il suo autografo, e posso garantirvi che avere a che fare con lei artisticamente è qualcosa di sublime e di una dolcezza infinita. Cercate Daniela Dalimonte qui su Facebook, ecco il contatto. Noi ci vediamo domani mattina, speriamo più svegli, per una nuova pillola e mi raccomando sempre buona lettura e buon giorno positivo. Ciao!